Ben ritrovati all'appuntamento con Cinema News, il settimanale di informazione cinematografica di Every Eye. A conquistare l'attenzione degli appassionati di cinema d'azione, questa settimana è stato il nuovo trailer per il settimo capitolo della saga più indiavolata del grande schermo, Fast and Furious 7. In questa nuova avventura Toretto e la sua famiglia saranno contrapposti al fratello di Owen Shaw, un assassino professionista che li ha presi di mira. Nel film in uscita il prossimo 2 aprile ritroveremo gran parte del cast storico della serie, tra cui Vin Diesel, Dwayne Johnson, il compianto Paul Walker nella sua ultima interpretazione e alcune new entry come Jason Statham. Nuovo, coloratissimo trailer anche per Minions, lo scatenato spin-off di Cattivissimo Me, che uscirà quest'estate. La pellicola vede il ritorno degli irresistibili uomini gialli, assistenti di crew, alle prese con gli esordi nella loro carriera di aiutanti di super cattivi. Negli anni 60 i buffi Kevin, Stuart e Bob si imbarcano in un viaggio emozionante che li condurrà alla corte della perfida Scarlett Overkill, prima super cattiva al mondo, a cui darà la voce il premio Oscar Sandra Bullock. Questa settimana ha avuto inizio il Festival Internazionale del Film di Berlino, che per la sua 65esima edizione vede tantissimi nomi noti e dozzine di pellicoli molto attese, oltre a 19 titoli in concorso per l'ambito Orso d'Oro. Tra i registi che saranno presenti avremo i celebri Wynn Wenders, Peter Greenaway, Terrence Malick e Werner Herzog, mentre non mancherà il glamour e i titoli rivolti al grande pubblico, con le prime di 50 sfumatori di grigio e del Cenerentola di Kenneth Branagh. E proprio Cenerentola darà l'opportunità ai fan di Frozen e Il Regno di Ghiaccio di tornare a visitare anche le sorelle Elsa e Anna, protagoniste del classico animato che ha sbancato i bottichini. La Disney ha di fatto rilasciato le prime immagini tratte da Frozen Fever, il nuovo corto d'animazione CGI che prosegue le vicende del primo film e che sarà proiettato esclusivamente in allegato live action in uscita il 12 marzo. La storia ruoterà sulla rocambolesca festa di compleanno della principessa Anna. I fan della saga di G.I. Joe e dei giocattoli anni 80 invece gioiranno alla notizia della conferma che non solo un terzo film è in sviluppo, ma che probabilmente vedrà una sorta di crossover con la mai dimenticata serie dei Mask, dato che tra i nuovi personaggi dovrebbe figurare anche Matt Tracker, leader degli agenti speciali del franchise acquisito da Hasbro. Tra i villain della pellicola, a quanto pare, faranno invece la loro comparsa i gemelli Tomax e Xamot, ma non c'è una data di riferimento per la possibile uscita della pellicola. Infine, segnaliamo che Lion's Creed, che si appresta quest'anno a concludere la saga di Younger Games con il quarto capitolo Il Canto della Rivolta parte seconda, non sembra avere intenzioni di mollare l'osso e, ispirata da quanto sta facendo Warner con Harry Potter e il prequel dedicato alle avventure di Newt Scamadro, vorrebbe dar vita proprio a un sequel e un prequel delle vicende che vedono Katniss opposta alla tirannia di Panem. Nuovi dettagli verranno rivelati nei prossimi mesi. Tra i film già in sala vi consigliamo di recuperare Mewon, il guardiano della luna, film da animazione in CGI di Alexandre Eboillat e Benoit Philippon, che esce nel nostro paese in anteprima mondiale. Protagonisti, un impacciato fauno della notte, un potente guerriero d'ambra e una coraggiosa ragazza fatta di cera, che cercheranno di riportare l'ordine nel ciclo del giorno e della notte. Tra i film in uscita questa settimana, invece, il più atteso è sicuramente Tekken 3, l'ora della verità. Spettacolare conclusione della trilogia iniziata nel 2008 con Io vi troverò e continuata poi nel 2012 con Tekken La Vendetta. A dirigere la pellicola troviamo ancora una volta Oliver Megaton, mentre il grande Luke Besson è nuovamente sceneggiatore e produttore. In questo terzo e conclusivo capitolo della saga ritroviamo un Liam Neeson più in forma e determinato che mai, nella doppia veste di preda e cacciatore. Incastrato per un omicidio che non ha commesso, Brian si ritrova a dover utilizzare per l'ultima volta il suo particolare set di competenze per pareggiare i conti con chi lo vuole morto e nel frattempo sfuggire a polizia, FBI e servizi segreti che gli danno la caccia. Per questa settimana è tutto. Vediamo appuntamento alla prossima con Every Eye Cinema News. Grazie a tutti.